Sul ritorno al nucleare più che mai di attualità, tra le indicazioni c'è anche quella di riutilizzare almeno in parte i vecchi siti. La centrale di Trino Vercellese in Piemonte è stata uno dei simboli del nucleare italiano. Oggi è un impianto fermo, ma ha ancora una parte di materiali radioattivi in attesa di essere smaltiti. La gente che abita lì intorno, però che cosa ne pensa della possibilità che Trino torni ad avere un ruolo nel nucleare del nostro paese? La centrale nucleare non fa paura, però bisogna sapere dove portare le scorie, perché le scorie di quella là, che sono 30 anni che sono sulla riva del Po, sono sempre là e nessuno sa dove portarle. Il guaio è questo. Eccolo il problema numero uno. La vecchia centrale è laggiù con ancora 47 barre irraggiate all'interno e già si parla di un nuovo capitolo. La centrale ferma dal 1987. Il reattore è stato spento dal referendum abrogativo. Aveva iniziato a funzionare nel 1967.